Buongiorno Davido, questo weekend, questo sabato per la precisione sono stato relatore, come era descritto nel piano della conferenza, quindi speaker sul palco di Hakimbo, questa conferenza appunto sulla cyber security che si svolge a Bologna due volte l'anno, anzi l'età quattro perché poi quando c'è un'edizione poi c'è sempre una due giorni in cui in un giorno è più orientata al business e invece il secondo giorno è orientata alla community. E nella giornata dedicata alla community io ho parlato appunto di supply chain security e è una conferenza, non vi voglio tanto parlare del mio talk e della mia esperienza alla conf, ma della conf in sé perché ho trovato una cosa, un progetto fantastico di una persona che ha messo in piedi tutto questo, si chiama Mario Anglani, ha messo insieme tutto questo consentendo l'accesso al pubblico che vuole seguire questi talk, quindi vuole formarsi sui temi della cyber security in maniera gratuita, cioè non c'è costo di biglietto e nonostante questo c'è un drop rate cosiddetto, cioè persone che prendono il biglietto e poi non si palesano, quindi non si presentano ai tornelli di ingresso, bassissimo, quindi c'è tanto entusiasmo, tra l'altro mi ha detto che i biglietti vengono staccati, vengono venduti tra virgolette perché non c'è nessun costo, quindi vengono distribuiti e esauriti in pochissime ore da quando vengono aperti, cioè c'è un sacco di entusiasmo attorno a questo conf. E tra l'altro è grande, cioè stiamo parlando di una sala che aveva circa mille persone al suo interno, per farvi capire la grandezza a metà sala più o meno c'erano ulteriori schermi che venivano giù dal soffitto per permettere al pubblico di vedere quello che succedeva sul palco che altrimenti sarebbe stato troppo lontano. Insomma, una sala molto grande, un sacco di persone, entusiasmo da parte sia di Mario che degli altri organizer, co-organizer, insomma tutti quelli che hanno messo in piedi questa cosa, degli sponsor, degli attendì. Poi c'erano nelle altre sale, diciamo non soltanto la sala della Conf ma anche in giro per l'albergo, si è svolto in un albergo di Bologna. C'erano dei giochi, c'erano altri momenti di divulgazione, c'era la polizia di Stato che ha inscenato la scena di un crimine per poter poi dimostrare gli step di un'analisi, di una scena del crimine con naturalmente materiale informatico da analizzare per trovare alcune cose, cercando di analizzarlo in modo da non comprometterlo, insomma cose molto fighe. Questo poi è un piccolo momento di Capture the Flag che in realtà si è svolto per tutta la giornata, poi la premiazione, insomma tutto questo per dirvi che se riuscite a essere a Bologna quando si svolge la prossima edizione che sarà a novembre mi pare, perché fanno una Spring e una Autumn Edition, ecco, va la pena secondo me anche se non siete proprio addentro al mondo della Cyber Security, come del resto non lo sono io, io ero un po' un outsider lì, no? Ecco, però sia i talk che vi danno delle informazioni che vale la pena sapere, sia poi per l'atmosfera che per tutte le persone che conoscete, insomma per farvi un giro, per immergervi in questo mondo della IT Security, ecco, fateci un pensiero, anche se non siete di qua, magari vi prendete un weekend, venite, vi fate un weekend a Bologna, in realtà davvero una conferenza di questo livello con un biglietto gratuito è abbastanza incredibile, quindi tutto questo per dire, a Kimbo, seguitelo, andate a mettere mi piace a tutti i loro social network in modo da essere aggiornati su quando faranno le nuove edizioni e poi appena escono i biglietti accattateveli, solo se volete andare però, eh, mi raccomando non fate, eh, quelli che prendono il biglietto e non vanno giusto per avere il placeholder, no, no, prendetelo solo se andate, se invece volete e vedete che i biglietti sono esauriti, c'è una lista d'attesa, quindi mettetevi comunque in lista d'attesa perché poi se per caso qualcuno rinuncia, vi verrete contattati per avere il vostro biglietto, insomma, questo era un po' uno spottone a Kimbo, evento in cui sono stato ospite questo sabato e mi sono trovato da Dio, benissimo, e quindi grandi complimenti a Mario e a tutta l'organizzazione di Kimbo e adesso vi do un paio di news, peraltro sempre al torno, giusto per stare in topic con la cyber security, degli aggiornamenti, anzi un aggiornamento su una cosa che avevo detto e poi un'altra news importante di security. Allora abbiamo un aggiornamento su Windows Recall, quella feature che consente ai Copilot Plus PC, cioè una specifica categoria, una nuova categoria di PC Windows con NPU, quindi Neural Processing Unit, ecco gli consente di fare screenshot ogni tot secondi del desktop Windows, poi attraverso un OCR prendere tutto il testo e sbatterlo in file di testo, peraltro non critati, compresi gli screenshot, e poi quindi consente all'utente di ritornare indietro, esplorare un po' la timeline delle azioni che ha fatto sul desktop, oltre che di fare delle domande con un AI che risponderà andando a leggere tutti i testi OCRD, quindi OCRD, insomma prelevati dalle immagini, e rispondere all'utente su domande tipo cosa ho fatto due settimane fa? Ecco, questa roba qua naturalmente è stata subito criticata dagli esperti di security, perché naturalmente è un problema enorme di privacy, perché prende screenshot di tutto quello che l'utente fa, compresa le informazioni sensibili che l'utente potrebbe inserire su siti web, immagina informazioni sanitarie, o informazioni finanziarie, ecco tutte vengono prese e messe in questo database di screenshot, oltre al fatto che poi il database stesso non è crittato, un attaccante che dovesse riuscire a prendere controllo del PC Windows di un utente, e vi assicuro che quello che ho visto a Akinbo Sabaton non è così difficile, ecco poi potrebbe riuscire a prendere una fonte di informazioni incredibili sull'attività che l'utente stesso ha fatto sul PC. Ora, se per gli utenti, diciamo privati, è un grosso problema di privacy e potenzialmente di leak di informazioni finanziarie, immaginate cosa può succedere invece a un'azienda, a una grande enterprise, se qualcuno riesce a mettere le mani su quel tipo di dati. Tutto questo per dirvi, per farvi un po' una panoramica di che cos'è Recall e i suoi problemi di sicurezza principali, però ne ho parlato già in puntate scorse, quindi cercate Windows Recall sul mio canale e troverete dove ne abbiamo parlato un pochino più in profondità. Allora, qual è la news in realtà? Beh, la news è che Microsoft ha un pochino fatto marcia indietro, non del tutto, ma quantomeno ha fatto due cose fondamentali che gli aspetti di security li chiedevano. La prima è di non abilitarlo di default, cioè di renderlo opt-in, come si dice. Quindi la feature esiste, ma è l'utente che deve abilitarla e questa abilitazione verrà richiesta in fase di nuova attivazione, in fase di nuova installazione di questa versione di Windows. E questa quindi è la prima cosa abbastanza importante. L'altra cosa è che, a quanto pare, il database sarà criptato, quindi per accederci l'utente dovrà fare enrollment nel programma Windows LO, quindi dovrà creare delle credenziali Windows LO e per accedere alla timeline e fare ricerche, poi l'utente dovrà sempre mettere la propria password, quindi dovrà autenticarsi per poter decrittare le informazioni in real time e poter poi visionare tutto questo. Insomma, è un piccolo passo avanti, sono due piccoli passi avanti, però insomma molto graditi. Dice un blog post di Microsoft, anche prima di rendere Recall disponibile ai clienti, avevamo avuto dei segnali che avremmo potuto rendere più facile per le persone scegliere se abilitare Recall sui loro PC Copilot Plus e quindi migliorare la privacy e la security. Con questa cosa in mente stiamo annunciando degli update che saranno effettivi anche prima che Recall sia reso disponibile poi al pubblico in preview il 18 giugno. Quindi dice poi il blog post, Recall sarà offerto come un servizio opt-in appunto, quindi durante il setup della macchina di questo Copilot Plus PC l'utente dovrà scegliere e inoltre Windows Hello è un requirement fondamentale per poter abilitare, per poter accedere al database di Recall. Dice infine questo blog post, Microsoft sta aggiungendo dei livelli addizionali di data protection, inclusi una decryption just in time, come vi dicevo, che è tra l'altro Windows Hello Enhanced Sign-in Security, ESS, non ho idea di cosa sia, però insomma è un programma che si basa attorno alla biometrica di Windows Hello. Windows Hello in realtà non è solo biometrica ma ha anche un PIN, non so se le due cose saranno intercambiabili o se servirà appunto un accesso biometrico, ma insomma in Windows Hello e quindi poi gli snapshot, gli screenshot di Recall saranno decryptati, accessibili soltanto dall'utente autenticato quando si autentica. Anche l'intero database, l'intero index del database sarà crittato. Proprio in conclusione del blog post, dice come facciamo sempre, continueremo ad ascoltare e a imparare dai nostri clienti. Invece la chiosa del post di Register dove ho letto tutto questo, dice magari la prossima volta ascoltate e imparate dagli utenti prima di fare un annuncio di un prodotto pronto praticamente al rilascio. Ah, e il commento di Kevin Beaumont, che è il ricercatore di Cyber Security, che è stato più critico e che vi ho citato più spesso nell'analisi delle criticità di Recall, dice ovviamente vi raccomando di non abilitare Recall e di dire a tutti i vostri familiari di non abilitarlo. Anche perché insomma, quando Microsoft spinge così tanto un prodotto nel marketing e all'utente che accede per la prima volta, che abilita per la prima volta un'installazione di Windows Copilot Plus, che gli viene detto abilita questa feature che è fighissima, insomma, magari molti utenti inadvertitamente la abiliteranno, no? Eh, quindi Microsoft, credo che Microsoft punti anche su questo. Prendo qualche altra info da Wired in realtà, perché c'è un ricercatore di Cyber Security, ex NSA, che si chiama Jake Williams, che ha scritto qualcosa di interessante appunto su Recall e dice, oh queste notizie sono positive, perché appunto l'opt-in è positivo, la criptazione del database è positivo, però attenzione che appunto molte persone abiliteranno comunque questa feature e questo poi sarà evidentemente un problema successivo da, per esempio, partner all'interno delle mura domestiche che otterranno il pin di accesso dall'utente, quindi poi potranno andare a vedere tutta la timeline degli avvenimenti, a poi investigazioni legali che chiederanno, otterranno l'accesso al PC e quindi poi avranno accesso anche qua a tutto lo storico di quello che l'utente ha fatto sul proprio PC. E per un scenario enterprise, quindi uno scenario aziendale, sarà anche un incubo per il team legali, per gli avvocati che se avranno da fare i conti con una history registrata di tutto quello che l'utente ha fatto sul PC, ecco, sarà poi complicato andare a smentire alcune accuse. E attenzione che vi do un piccolo extra, se Recall insomma non vi piace molto perché è stato fatto da Microsoft, è closed source, è su Windows, eccetera, sappiate che esiste la sua controparte open, controparte open source, che si chiama Open Recall. Hanno perso l'opportunità di chiamarlo Total Recall purtroppo, comunque si chiama Open Recall e è un'alternativa proprio a Recall, fa le stesse cose ma non necessita di un Copilot Plus PC, non se ne fa niente della NPU, anche qua come sappiamo questo requisito è semplicemente un requisito di marketing per spingerti a comprare un Copilot Plus PC. Insomma, proprio come Recall, Open Recall salva gli screenshot ogni qualche secondo del tuo computer, li sbatte in un database, fa OCR, quindi prende tutti i testi e ti permette poi di ricercarli velocemente nella timeline, eccetera. Comunque questa roba è tutta open source, cross platform, quindi potete installarlo su Windows, Mac e Linux e non richiede appunto NPU. Gli sviluppatori dicono che tutto questo è privacy focused, però attenzione che i dati non sono criptati, quantomeno non c'è una password per poter escedere, quindi insomma è un database SQLite anche qua, non criptato e quindi ci sono rischi potenziali. Comunque io ve lo dico, esiste Open Recall, lo trovate su GitHub Open Recall slash Open Recall, eccolo qua, è anche per curiosità, per vedere come viene fatto, insomma è un software in Python e ci sono appunto qua nel Readme alcune informazioni su come installare, come funzionare, potete andare a fare un giretto nel codice, insomma. Ve lo butto lì, questo è Open Recall, alternativa Open a Recall di Microsoft. Oh e restiamo in tema security e in ambiente Microsoft, perché siamo su VS Code e c'è una cosa interessante da dire, che il Marketplace di VS Code è altamente sensibile, altamente vulnerabile ad alcuni tipi di attacchi e in particolare c'è un gruppo di ricercatori israeliani che hanno esplorato appunto le questioni di security di Visual Studio Code, del Marketplace in particolare di Visual Studio Code e hanno infettato più di 100 organizzazioni, insomma compagnie, utilizzando un malware in un pacchetto che è una copia del popolare Dracula Official Team. E questo attacco è un tipico attacco di typo squatting, cioè questi ricercatori hanno creato un pacchetto che è una copia di Dracula, ma il nome è leggermente cambiato, è Darkula, hanno anche creato un sito web che si chiama darkulateam.com per poter mettere anche il verified publisher, per collegare, quindi dal punto di vista dell'utente è ancora più difficile distinguere, perché c'è proprio la spunta del publisher verificato, quindi l'estensione si chiama Darkula, appunto installata equivale praticamente al tema di Dracula, che è un tema molto popolare su VS Code, quindi ha milioni di installazioni, ebbene se però si va a vedere cosa c'è nascosto nei file di questo Darkula Team, ecco c'è un codice JavaScript che prende alcune informazioni della macchina su cui è installato e le manda via HTTPS POST, quindi una chiamata POST, a un server remoto. Queste informazioni includono l'hostname, il numero di installazioni, il numero di estensioni VS Code installate, il domain name della macchina, e il sistema operativo su cui gira la piattaforma. Vedete, eccola qua. Se state guardando la request POST, con tutti questi atti. Questi sono i dati, e questo invece è l'indirizzo a cui viene mandato. Questi dati naturalmente sono abbastanza benevoli, nel senso che non ci sono informazioni molto compromettenti, ma immaginate cosa potrebbe fare un attaccante che ha a disposizione questo tipo di potere, ecco sulla macchina, e può mandare questo tipo di informazioni. E peraltro, questo comportamento di VS Code che invia queste informazioni non è flaggato come pericoloso dagli EDR, cioè dai tool che fanno Endpoint Detection and Response, che guardano, come Windows Defender, guardano gli Endpoint e i dati che passano in rete per identificare potenziale attività malevola di un programma, di un software, o di un'estensione come in questo caso. Ma non viene fatto, perché VS Code viene trattato in modo un po' particolare, per la sua natura di ambiente di sviluppo e di test. Dice infatti Amit Asraf, che è uno di questi ricercatori, dice sfortunatamente gli EDR non fanno Detection di questa attività perché VS Code appunto è costruito per leggere un sacco di file, eseguire molti comandi, creare child process, e gli EDR non riescono a capire se l'attività di VS Code è legittima o è appunto malevola. E questo è un altro grosso problema. Comunque, l'estensione d'Arcula è diventata popolare, molto rapidamente, è stata installata per errore da molti target di alto valore, di alto livello, inclusi, dicono i ricercatori, anche una compagnia public listed, quindi una compagnia quadrata in borsa, con un market cap di 483 miliardi, quindi una compagnia anche enorme, un sacco di aziende di security, e anche una corte di giustizia nazionale. Incredibile, i ricercatori non hanno voluto fare disclosure di chi sono questi nomi, che hanno installato l'estensione, però insomma, sono molte compagnie di alto livello, organizzazioni di alto livello. Naturalmente non c'era intento malevolo in questa ricerca, appunto per i dati che sono stati inviati, però potenzialmente, ecco capite cosa potrebbe succedere. Guardate che c'è anche questa mappa con la location delle vittime, vedete che sono proprio worldwide, distribuite un po' in tutto il mondo. Peraltro, dopo aver fatto questo esperimento, hanno anche creato un tool che si chiama Extension Total, che fa un po' un assessment del marketplace di VS Code per trovare le estensioni che hanno rischi, e fare appunto un po' uno scrutinio di quello che è lo stato attuale del marketplace. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che ci sono 1.289 estensioni con codice malevolo conosciuto, già con roba che si sa già e che è palesemente malevola. Poi ci sono 8.161 estensioni che comunicano con indirizzi P arcodati, 1.452 che lanciano, praticamente eseguono dei binari, degli eseguibili di cui non si conosce la natura, e poi 2.304 che stanno usando il GitHub repo di un'altra estensione o di un altro publisher, e quindi sono palesemente delle copie di altre estensioni. Quindi poi che intenti hanno? Non si sa, però intanto perché pubblicare un'estensione che ha copie di un'altra estensione? Magari proprio per intenti malevoli. Questo per esempio, che vedete qua se state guardando il video, è un esempio di codice trovato in un'estensione malevola che apre una reverse shell. Eccola qua. Questo codice eseguito proprio da un'estensione che apparentemente è buona, in realtà apre una reverse shell e permette a un attaccante di eseguire codice da remoto, sul PC Windows della vittima. Ecco, quindi questa ricerca e anche questo esperimento sono stati condotti per dimostrare a Microsoft che l'estensione, il marketplace di VS Code è molto vulnerabile ed è ad alto rischio, anche perché insomma molte persone lo usano e installano estensioni proprio fidandosi di quello che fa VS Code. E tutto questo lavoro, poi i ricercatori lo hanno segnalato a Microsoft, gli hanno segnalato anche tutta la lista di estensioni che secondo loro andrebbero rimosse, però come ci dice Bleeping Computer molte di queste sono ancora online. Eccoci nella sezione link, vi lascio due cose interessanti. La prima è Omacube che è un setup Ubuntu, è una serie di script automatici che fanno un setup di Ubuntu, di Ubuntu 24.04 che vi creano praticamente un ambiente adatto allo sviluppo software. Questo tool è stato creato, ecco non gli copro la faccia, al signor D.H.H., vedete qua in piccolino sopra di me la sua facciotta, D.H.H., lo conoscerete, David Daniel Mayeran, uno storico creatore di Ruby on Race, poi fondatore di Hey, eccetera, tra l'altro grande polemizzatore, opinionista, diciamo, online, spesso andiamo a vedere che cosa pensa, che cosa scrive, perché insomma le sue opinioni sono sempre molto interessanti, anche abbastanza è un grande attaccante, insomma, un grande, fa grande battaglia, il buon D.H.H. insomma ha creato questa serie di script che se lanciati su un'installazione Ubuntu 24.04 vi creano un ambiente che naturalmente per i suoi gusti, perché se l'è creato per lui insomma, vi danno strumenti di sviluppo, setup del desktop, temi anche grafici, tra cui potete anche switchare, c'è una command line che dipende di switchare tema, e io non vi posso stare a far vedere tutto il video, però comunque lo metto, eccolo qua, in fatto che togliamo l'audio, per farvi giusto vedere alcune cose, però vi consiglio di andare su homecube.org per vedere, vedete che c'è una sorta di tiling system, terminale, temi per, temi per VS Code, temi per NeoVim, insomma, tutto quanto abbastanza integrato per darvi un ambiente di sviluppo che, insomma, funzioni secondo le necessità di HH, che magari sono anche le stesse necessità che avete voi, insomma, dateci un'occhiata, ve lo consiglio, l'installazione è molto semplice, e poi c'è anche questa linea di comando carina dove potete configurare alcune cose ulteriormente, switchare i temi, eccetera, quindi omacube, vi lascio il link omacube.org. Il secondo link che vi lascio invece è più per divertimento, è floor796.com, questo è, questa è opera di un artista che ha voluto disegnare e animare a mano praticamente un ipotetico piano 796 di una stazione spaziale internazionale, dove in questo piano si alternano nelle varie stanze personaggi della cultura pop, sci-fi, fantasy, ma nerd, e quindi voi navigate in questo piano, vedete, e in ogni stanza trovate potenzialmente dei personaggi della vostra, della cultura pop, vedete qua per esempio c'è Fry e Zap di Futurama, qua c'è Wall-E, insomma, è obbligato una stanza a caso, qua naturalmente c'è, ci sono immagini da Another Brick in the Wall dei VinFloid, quindi vedete anche roba musicale, Outer Club, qua c'è Fight Club, qua c'è Trinity contro Chun-Li che combattono, vedete anche le animazioni sono molto fighe, insomma, questo, questo artista, Power Ranger, questo artista ha voluto mettere insomma in piedi questa cosa per divertimento suo e poi aggiunge una tile, cioè una tile, proprio una, una stanza, ecco, a questa, a questa immagine ogni tanto e quindi voi ogni volta che andate ad accedere a questa cosa potenzialmente trovate nuove stanze, nuove tile e lo esplorate, andate un po' a vedere chissà quali dimensioni raggiungerà ecco questo, questo piano, piano 796, quindi ve lo consiglio giusto così per passare un po' di tempo e scoprire magari, vi lascio soltanto Kao Bobibop, vi lascio con Kao Bobibop, è sempre, è sempre bene lasciare le persone con Kao Bobibop, quindi tornate su flow796.com giusto per passare qualche minuto e scoprire i personaggi che riconoscete ecco, delle varie stanze. Ho finito qui, grazie per avermi seguito anche oggi, noi torneremo uno dei prossimi giorni perché qua siamo giornalieri ma non necessariamente, siamo quasi daily, quindi torneremo quasi daily con questo podcast di News IT, News ITech, vabbè, e insomma, grazie insomma per se volete seguirmi, se volete contattarmi vi ricordo sempre che mi trovate su LinkedIn o su Mastodon, insomma, se volete mandarmi messaggi privati, fare due chiacchiere, farmi delle domande, dei consigli, mandarmi dei link che ritenete interessanti di cui discutere, ecco, contattatemi pure privatamente, mi fa piacere cerco di rispondere. Basta, ho finito, grazie, alla prossima. Ciao!